Ciao a tutti vediamo come chiudere un account di Battlenet non possiamo farlo dall'applicazione che abbiamo su Android perciò dobbiamo comunque utilizzare il browser perciò aprite Chrome, cercate Battlenet, vi si aprirà il sito di Blizzard in alto a destra dovreste vedere un'icona dell'utente se premete vi dirà connessione, premete su quel pulsante, vi farà fare l'accesso una volta che avete fatto l'accesso anziché cercare nel sito per chiudere l'account tornate su Google e scrivete, eventualmente vi lascio il link sotto in descrizione Battlenet chiudere account, come sto facendo nel video prendete come vedete il primo link di eu.battle.net che è quello ufficiale del supporto aprite questa pagina e se scendete in fondo in fondo in fondo vi dice se desideri aprire una richiesta clicca qui, io comunque vi mando il link nel caso così potete andarci direttamente senza problemi in questa pagina dovete scendere, leggere eventualmente quelli che sono i termini della cancellazione dell'account, potrebbero lavorareci 30 giorni potrebbero eventualmente richiedervi un documento identificativo nel caso non è assolutamente detto, voi scegliete, spuntate di confermare la richiesta di eliminazione, vi manderanno un codice di verifica sulla vostra mail chiaramente voi inserite il codice di verifica, fate invia e vi dirà che è stata ricevuta la richiesta con successo, da lì in poi dovete aspettare una mail di conferma da parte di Blizzard che vi porti avanti l'eliminazione dell'account, potrebbero appunto richiedervi cose aggiuntive oppure dirvi semplicemente che l'account è stato rimosso, ok? questo è quanto, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento ciao ciao!